Ciao, ci siamo. Ciao, ci siamo. Stiamo registrando, grazie a Martina Colucci, stiamo registrando i live, li trovate su YouTube di Fatti di Teatro. Ciao Turi, ciao Napoleone. Ok, Vincenzo non c'è. Aspetto altri 30 secondi, intanto invito chi vuole a scrivere delle domande a me e a Vincenzo col testo, anche col puntino interrogativo. Mando un messaggio a Vincenzo perché non lo sto vedendo. Ciao Manu, ciao Astro, Astro Lasagna, Vincenzo del Gaudio, ciao Spazio Teatrale all'incontro, ciao Chapellier, ciao Luca. Niente, aspettiamo ancora un minuto, intanto facciamoci delle domande, che fate? Scrivetemi qualcosa. Non ti vedo. Entra nel live. Vincenzo, adesso sta arrivando. Ciao Paolo, ciao Vittorio, ciao Tommaso. Corso online, Google Digital Training, fantastico, mandami un link, però non qui. Che è Digital Training? Ma una cosa fisica? Ok, forse adesso c'è. Ecco Vincenzo, eccolo. Mi ricordo, Vincenzo è uno studioso di teatro, ecco Vincenzo, ciao. Eccoci qua, ciao, ciao Simone. Ti senti bene? Io abbastanza, tu? Io ti sento bene. Stavo dicendo, Vincenzo è il secondo ospite che non conosco personalmente. Noi Vincenzo non ci siamo mai conosciuti personalmente. No, 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 mai, mai. Ti ho invitato perché ti ho visto attivissimo, sono andato a vedere quello che fai, eccetera. Quindi intanto ti ringrazio di aver accettato questo invito. Grazie a te. Ti stavo presentando come uno studioso proprio di teatro in Nuovi Media dell'Università di Salerno. Quindi con te mi piacerebbe anche fare qualche discorso proprio legato a questo momento e quante possono essere le possibilità. e se il mondo del teatro sta recependo quella che è in qualche modo una costrizione che potrebbe diventare una svolta, diciamo, una svolta verso altri formati, eccetera. Subito così, anche parlando, nei discorsi che abbiamo fatto con Carlo Infante, con Oliviero Ponte di Pino, vedi qualcosa nel web che ti sta convincendo oppure è solo una replica video degli spettacoli? Allora, in prima istanza ti ringrazio tanto per l'invito. In generale, come sai, sto seguendo attivamente il tuo format e mi piace molto per un sacco di motivi. Uno dei motivi per cui mi piace molto è legato al fatto che negli ultimi anni, insieme ad altri studiosi, tra cui Alfonso Amento, Laura Gemini che hai già invitato, Giovanni Bocciartieri ed altri, abbiamo lavorato intorno alla possibilità di intendere il teatro all'interno dell'ecosistema mediale contemporaneo. Questo per noi significava sostanzialmente non vedere il teatro come qualcosa di esterno, che dovesse essere pensato come un punto totalmente esterno ai media digitali, ma come qualcosa di interno. Questa crisi ci pone il problema di andare a vedere in che modo il teatro si organizza una volta che le sale vengono chiuse. Perché è chiaro che, come giustamente stiamo dicendo in questi giorni, il problema principale è che noi ci siamo riversati tutti quanti sui social network, abbiamo più o meno ricominciato ad organizzare pratiche legate ai media digitali, semplicemente perché per necessità, virtù, le sale sono chiuse. Però anche prima di questo evento, che sostanzialmente ai miei occhi è un evento traumatico, nel senso proprio etimologico del termine, cioè sarà un trauma e ci sarà un prima e un dopo, anche per il mondo del teatro, che ha a che fare con tutto quello che vi siete detti in questi giorni, soprattutto sul piano economico, delle produzioni, ma avrà a che fare anche sul piano dell'immaginario. Cioè io sono abbastanza convinto che quando i teatri riapriranno non potranno fare a meno di ricontestualizzare questa esperienza che sta nascendo in modo assolutamente spontaneo e che sostanzialmente in qualche modo sta cambiando il nostro modo di intendere il teatro. Tu mi chiedi delle pratiche, io ne vedo molte di pratiche assolutamente interessanti, ma come ti dicevo, sostanzialmente queste pratiche erano già attive prima del virus, soltanto che prima del virus sostanzialmente noi non riuscivamo a vederle e a renderle in qualche modo funzionali rispetto a un discorso più ampio e interno a un discorso legato ai media digitali. Ti faccio un esempio. Tu probabilmente ricorderai Zombitudine di Frosini Timpano. Certo, sì. Zombitudine di Frosini Timpano era già uno spettacolo che sostanzialmente funzionava in modo transmediale. Perché? Perché c'era lo spettacolo, non so se ricordi, c'era lo spettacolo e poi intorno allo spettacolo avevano creato tutta una serie di performance urbane che sostanzialmente funzionavano quasi da appendice allo spettacolo e che venivano caricate sul profilo YouTube della compagnia. Cosa significava? Significava che seguire l'intero processo creativo di Zombitudine implicava, da un lato, costruire nuovi modelli di audience development, cioè nuovi modelli attraverso cui costruire pubblico, che era il pubblico di YouTube, che era il pubblico che sostanzialmente, o almeno l'idea era quella, cioè era il pubblico che sostanzialmente si riversava su YouTube creando un topic che era fondamentalmente interno a una narrazione molto, molto di tendenza in quel periodo. Pensa a tutta la crescente narrazione intorno agli zombie, da The Walking Dead, partendo da 28 giorni dopo, a tutta quella che viene chiamata la zombie renaissance. Quindi già prima dell'avvento del virus, o meglio di questo evento traumatico, erano in atto alcuni modelli, secondo me, molto interessanti di rapporto tra teatro e nuove tecnologie, tra teatro e nuovi media. Come si esce secondo te? Ah sì, vai, prosegui, prosegui. Il punto è che secondo me il virus ci ha costretto, i teatri chiusi ci hanno costretto, nel bene o nel male, a dover ripensare il modello attraverso cui fare audience engagement, audience development. Come si esce secondo te dalla semplice riproposizione in video degli spettacoli, che essi siano creati per il video, ovvero letture che vediamo di vario tipo, oppure spettacoli, come dire, di archivio, quindi grandi successi di Ronconi o di Pina Bausch, che non erano accessibili, diciamo, e adesso sono accessibili perché anche gli archivi e i teatri stanno cercando di ampliare le loro possibilità in questi giorni dove principalmente non si va in scena. Io quello che vedo è che non si fa un passaggio ulteriore che è quello del coinvolgimento, dell'engagement, come dicevi tu. Secondo te come se ne potrebbe uscire da questo? Non so se è chiara la domanda. Sì, sì, assolutamente, credo di sì, credo di aver capito. Allora, secondo me la questione dell'archivio è chiaramente una questione capitale, nel senso che in linea di massima il fatto che si liberino gli archivi è qualcosa di positivo, sia per gli studiosi che per coloro i quali in qualche modo possono avvicinarsi ad alcune opere fondamentali che non vanno più in scena. come ti dicevo anche nella telefonata precedente alla nostra, a questa diretta sostanzialmente io ho cominciato a frequentare i teatri perché nel 1995 ho visto in tv l'uno contro tutti di Carmelo Bene quindi dalla tv al teatro e questo adesso non accade e questo adesso non accade tanto più, no non solo secondo me nel senso che tu qualche giorno fa chiacchierando con Oliviero Ponte di Pino Oliviero Ponte di Pino diceva forse il problema principale è che l'80% degli italiani al teatro non ci va e non ci va neppure una volta non ci va mai e questo è un problema se andiamo a vedere le fasce d'età che frequentano i teatri c'è un bellissimo studio tra l'altro di Laura Gemini appunto che è invitato qualche settimana fa e Stefano Brilli che hanno fatto uno studio sul pubblico dello spettacolo dal vivo in Italia e se andiamo a vedere le fasce d'età che frequentano i teatri l'età media è di 42 anni e mezzo più o meno sostanzialmente con il problema che diciamo la fascia dei ventenni quelli che oggi vengono più o meno definiti post-millennials quasi non accedono al teatro questo è cosa significa significa chiaramente che in qualche modo il teatro non riesce a parlare a questa fascia d'età e questo è un problema che sia culturale sia chiaramente un problema legato ai modelli di fruizione culturale se fino a poco tempo fa in televisione la Rai mandava spettacoli teatrali eccetera eccetera oggi è sempre più difficile questo non vale soltanto per la Rai vale anche per il fatto che il teatro dal mio punto di vista a partire sin a partire dagli anni settanta sin a partire dall'ipermediazione degli anni settanta si è trovato a pensarsi come una forma come un mondo arcaico che bisognava proteggere c'è anche una sorta di snobbismo secondo me c'è anche una sorta di snobbismo io qualche giorno fa ho visto l'avevo già citato al volo proprio un articolo su un giornale cartaceo il teatro non mi ricordo quale si arrende al web si arrende a me ha detto come si arrende è una possibilità parliamone si arrende sembra che siamo in guerra contro il web sembra quasi che il teatro sia in guerra contro il web e il digitale i social network ci aggiungo sei d'accordo Vincenzo? però assolutamente d'accordo da ultimo il teatro è sempre nato cioè ha sempre pensato il rapporto con i media in questi termini con la nascita della fotografia sostanzialmente il teatro ha ha determinato una sorta di rottura tra teatro e fotografia la nascita del cinema non ne parliamo proprio potremmo parlare di qui a giorni rispetto al fatto che il teatro sino a partire dagli anni venti si è pensato del novecento si è pensato come uno spazio alternativo al cinema con la nascita della televisione ancora e ogni nuovo medium che entrava all'interno dell'ecosistema mediale si diceva è morto il teatro come se sto cavolo di teatro in un modo o nell'altro dovesse sempre morire cioè come se qualcuno dovesse sempre uccidere perché ogni nuovo medium che entra all'interno del mediasco e ti diceva ma questo uccide il teatro il cinema ha ucciso il teatro e invece il teatro sta ancora là in un modo o nell'altro resiste e proprio perché secondo me può essere pensato all'interno di un di un mediascape più complesso non solo resiste ma può avere una funzione fondamentale in questo mediascape certo senti Vincenzo ti volevo leggere un messaggio che mi è arrivato a Turizzina artista siciliano da sempre lo dico anche per gli altri che ci guardano da sempre attento alle connessioni col digitale non è una domanda ma un tema che lui scrive te lo rilancio così ci facciamo un paio di battute non è il teatro a virtualizzarsi è il mondo il reale come non mai in questa fase esiste in questo spazio di interconnessione il teatro è sempre stato consustanziale allo spazio le scritture sceniche si sono trasformate in parallelo agli edifici teatrali tragedia teatro greco melodramma palcoscenico all'italiana eccetera è fuori luogo decidere preconcettualmente di porre il teatro fuori dallo spazio della realtà è il linguaggio semmai di essere messo in crisi il rischio vero è l'afasia l'incapacità di accogliere il qui e ora dell'interconnessione e questa è una domanda però è una questione attualissima che ti volevo rilanciare così in diretta assolutamente allora si si provo a rispondere è chiaro che è una domanda molto complessa però va a rispondere velocemente è chiaro che quello che dice Turi è assolutamente giusto laddove però chiaramente il teatro è sempre stato interno a un orizzonte sociale ben definito e questo orizzonte sociale è sempre stato determinato in un modo o nell'altro da le tecnologie che erano alla base di questo orizzonte sociale questo chiaramente non significa fare determinismo tecnologico e dire che la società è così perché le tecnologie sono così non è propriamente questo il discorso quanto piuttosto l'idea che in un modo o nell'altro il teatro debba per forza di cose accogliere i movimenti sociali e questi movimenti sociali oggi come oggi sono molto se non in maniera preponderante legati alla crescente digitalizzazione della nostra vita quotidiana questo che cosa significa secondo me significa che è chiaro che il teatro deve ripensarsi ma questo non significa perdere completamente di vista quelle che sono le sue matrici culturali tecniche tecnologiche come dire le sue matrici storiche questo non significa da un lato dire ci stanno i media digitali facciamo così buttiamo a mare tutto quello che abbiamo fatto fino a questo momento e cominciamo a fare teatro sul web chiaramente questo non sarebbe un modo di intendere il rapporto teatro tecnologia totalmente secondo me sbagliato ci sono tante pratiche invece che intendono questo modello a partire da da ragionamenti un po' più sottili provo a farti un esempio spesso in questi giorni abbiamo detto un po' tutti quanti noi che il teatro ha a che fare con questo modello della copresenza di attore e spettatore nello stesso luogo e nello stesso tempo ok oggi quel modello della copresenza chiaramente è un modello totalmente differente perché è totalmente differente perché è chiaro che il web o meglio le tecnologie digitali ci permettono di costruire diversi modelli di presenza ad esempio io e te in questo momento siamo presenti in chat non direi di essere presenti soltanto a casa mia no siamo presenti in chat e stiamo discutendo in chat questi nuovi modelli di presenza non sono alternativi a quelli del teatro sono totalmente diversi ma non sono alternativi cioè se noi la pensiamo nella logica dell'out-out da un lato c'è la presenza sui media eccetera eccetera e dall'altro c'è quella del teatro non riusciamo a capire che in realtà questi due modelli come oggi sono sempre più interconnessi e l'esempio che mi viene che faccio più spesso anche ai miei studenti è quello di uno spettacolo del 2002 della coreografa e danzalice Yu Agesawa Johnson che fa danzare a 3000 km di distanza un danzatore in un teatro con un avatar che viene mosso un avatar digitale un ologramma che viene mosso dentro a uno studio di a un laboratorio di un'università a 3000 km di distanza ecco in quel modello dove sta la presenza c'è ancora la presenza non c'è noi dobbiamo cercare di tenere presente questi modelli ibridi perché oggi la nostra presenza è ibrida secondo me i nostri modelli di presenza sono ibridi questo non significa che l'esperienza teatrale non abbia più nulla da dire come diceva Giovanni Bocciottieri qualche settimana fa proprio ospite da te a teatro ancora una volta c'è quella possibilità di respirare allo stesso tempo di trovare un ritmo comune un ritmo un battito cardiaco comune eccetera eccetera ma questo dal mio punto di vista ci porta anche a dover dire che ormai quell'esperienza è già da ultimo un'esperienza mediata no? pensa anche a no no è molto chiaro quello che dici no no io semplicemente invito se qualcuno vuole fare un commento così di utilizzare anche il tasto il punto interrogativo purtroppo non si può scrivere troppo però chiaramente anche la natura di Instagram chiaramente è legata molto alla brevità eccetera no grazie Vincenzo per queste tue suggestioni e anche per avermi citato questa danzatrice come si chiama specificatamente Yu? Yu Agisawa Johnson Johnson si ok come la vado a cercare lo spettacolo si chiama Ham lo spettacolo si chiama Ham and Beards è stato uno dei primi è stato uno dei primi esperimenti è stato uno dei primi esperimenti di teledanza è stato uno dei primissimi esperimenti di teledanza a distanza eccetera eccetera che secondo me è interessante proprio perché ci mostra questa questo modello ibrido di presenza tra l'altro su web in questi giorni ne hai parlato anche tu ci sono tanti tentativi di ricreare come dire quel quel quella quella rivoluzione che è la presenza teatrale cercando di rimediarla all'interno delle logiche del web penso per chi volesse a a quello che stanno facendo i Konik che ogni martedì credo vedete meglio sulla pagina dei Konik stanno facendo uno spettacolo a distanza tra la Spagna e il Cile tenendo insieme alcuni artisti spagnoli alcuni artisti cileni in uno spazio che già di per sé virtuale i Konik come si chiamano loro scusa Konik THTR Konik THTR ah ok sì e i Konik sostanzialmente sono stati tra i primi a ragionare sulla possibilità di fare spettacoli di telepresenza ad esempio hanno fatto spettacoli con un parco a Barcellona Konik con la K vero? sì con la K sì un parco a Barcellona ed una Daindhoven un parco a Barcellona ed una Daindhoven tu capisci bene che in esperienze come queste ci troviamo di fronte come dire quasi all'amplificazione del rapporto tra attore e spettatore cioè ci sono due parchi uno a Barcellona in cui lo spettatore sostanzialmente non soltanto assiste allo spettacolo di Barcellona ma perché il parco di Barcellona è in connessione col parco di Daindhoven quindi lo spettatore assiste dal vivo diciamo in presenza allo spettacolo di Barcellona e in presenza in diretta allo spettacolo di Daindhoven quella che io ho definito presenza in diretta ma possiamo ragionarci Laura Gemini diceva noi dobbiamo cominciare a ragionare su questi modelli aumentati di likeness ma ormai tutti i nostri modelli sociali sono modelli aumentati di likeness in più io sono convinto però questa è la mia convinzione su cui potremmo discutere che il teatro o meglio che i media digitali stanno in un modo o nell'altro inseguendo alcune logiche che sono proprie del modello drammaturge pensa alla logica della diretta Instagram cioè la logica del del video che una volta fatto scompare così come lo spettacolo teatrale dal mio punto di vista è un modo per drammatizzare i media digitali cioè i media digitali in un modo o nell'altro stanno spingendo sempre più verso un modello ripete l'esperienza dal vivo in digitale assolutamente esattamente quindi andare un po' anche contro però allora diventare in qualche modo competitor dello spettacolo dal vivo mi sa che in questo caso siamo sconfitti ma io invece non penso che siamo sconfitti io penso che il teatro ha una possibilità spaventosa cioè quella di essere la forma mediale più antica per questo con una tradizione alle spalle molto molto importante e soprattutto ha la possibilità proprio per la sua per la sua quella che io definirei obsolescenza per il fatto che sostanzialmente sembra quasi rivoluzionario già andare a teatro ha la possibilità di 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 mostrare i meccanismi che di funzionamento dei media digitali cioè quando un media digitale o in qualsiasi forma mediale viene spinta spostata all'interno del dispositivo scenico sostanzialmente ne vengono disvelati i modelli di funzionamento pensa al cinema no e a spettacoli eh ne abbiamo visti tanti a partire dagli anni duemila di doppiaggio dal vivo di di come dire di videoteatro in cui non si riusciva a riconoscere quale fosse la parte dal vivo e quale fosse la parte eccetera eccetera che cosa sono se non tentativi di mostrare i meccanismi di funzionamento di un determinato modello mediale il teatro può fare questa cosa qui a differenza di molti altri media e secondo me questa cosa qui è una cosa rivoluzionaria al massimo cioè assolutamente una cosa rivoluzionaria e poi diciamoci la verità lo ripeto ancora il teatro lo danno sempre per morto sempre destinato a soccombere e questo storicamente sempre destinato a soccombere in realtà a soccombere non è che soccombe mai perché poi da ultimo eh come dire il la necessità di stare insieme rimane pensa all'operazione fatta da Marco Martinelli dal teatro delle Arbe in mano da Montanare eccetera eccetera su Dante in cui sostanzialmente si come dire si si tiene insieme un'intera cittadinanza 500 e più figuranti non so se ti è capitato di vederlo lo spettacolo della Divina Commedia 500 e più figuranti ecco cioè secondo te in che modo se non facendo questo tipo di operazioni noi continuiamo a mostrare che il teatro è qualcosa di rivoluzionario certo senti ti ti leggo Luca che dà un contributo dicendo la prossima generazione di device domestici vedrà un massivo aumento dei dispositivi di realtà virtuale ora più economici e performanti la presenza digitale potrebbe passare anche da qui certo c'è tutto il discorso legato alla realtà virtuale che già già adesso accade diciamo passerà sicuramente da qui e posso dirti che gli esperimenti in questa direzione chiaramente ce ne sono tanti e che sono anche interni al alla alla logica delle arti performative ma gli esperimenti in questa direzione più avanzati al momento almeno che io sappia sono legati chiaramente all'industria della pornografia e del sesso perché i media digitali in pratica l'hanno quasi azzerata distrutta e chiaramente l'idea di poter in qualche modo recuperare alcuno uno spazio attraverso cui determinare un contatto a distanza per quella industria è qualcosa di molto molto importante quindi sì sicuramente passerà da quella o almeno secondo me sicuramente passerà da da quei device lì che dal mio punto di vista però verranno sperimentati prima in chiave sessuale in Giappone già lo fanno non è in Giappone già anzi se volete vedere qualcosa di divertente su youtube ci sono tante simulazioni che mostrano come funzionano questi dispositivi di realtà aumentata legati al al sesso ok senti andrei verso la chiusura ti ringrazio moltissimo ti voglio fare l'ultima domanda anche a chi ci segue perché sto cercando di capire se è possibile replicare questa questa cosa stiamo facendo noi diciamo questa intervista video con commenti su facebook io non credo ci sia l'opzione dell'invito tu hai qualche l'hai viste queste cose le segui le ho viste ho iniziato a studiare Streamyard che però chiaramente è un altro è un altro sito che poi ti fa streammare su facebook però non c'è l'interazione in diretta no purtroppo è quello il problema che io sappia non c'è nessun al momento non è ancora possibile più o meno con app come Zoom come Streamyard sostanzialmente il meccanismo è sempre lo stesso cioè entri in un altro portale poi sostanzialmente vieni splittato mandato in diretta via facebook e chiaramente perdi completamente il modello dell'interazione però chiaramente il modello dell'interazione puoi leggere il conduttore tipo può leggere i commenti guardandoli direttamente da facebook però non sono sulla stessa piattaforma però chiaramente sì sì va vai parla chiaramente questo tipo di meccanismo azzera completamente il rapporto o la cosa interessante secondo me di un'operazione come questa cioè quella dell'interazione perché diventa come dire diventa filtrata dal presentatore perde come dire non è più in diretta tu perdi il filo rispetto a ai tempi della risposta quindi è chiaro che diventa un po' più è chiaro essendo su un'altra piattaforma io farò dei tentativi ho visto streamer nella versione free ti permette fino a tre persone quindi possiamo essere in tre e c'è anche la condivisione dello schermo che potrebbe essere interessante invece chiaramente la versione pro lo dico anche per chi ci ascolta magari vuoi fare questi esperimenti ti permette ovviamente di brandizzare quindi puoi mettere il logo eccetera insomma puoi fare proprio una trasmissione televisiva caro io vado verso la chiusura ti ringrazio moltissimo di questo ci siamo raccontati appuntamento ti rubo 30 secondi perché ormai no che scherzi do i prossimi appuntamenti con l'ospite tanto lo sai io ci sarò ci sarò come pubblico quindi lo sai sono affezionato quindi anche io voglio sapere i prossimi appuntamenti allora dunque domani Stefano Romagnoli spettatore professionista attenzione bannato da facebook quindi l'ho invitato su instagram a capire che ha combinato avrà postato troppo chi lo sa e poi mi faccio raccontare come fa a sopravvivere senza andare a teatro quelle 6-7 volte la settimana come faceva da qualche anno a questa parte primo aprile Mattia Berto teatro stabile del Veneto con il progetto con un suo progetto teatro e cadinanza che si è spostato su un gruppo facebook quindi la dinamica del gruppo diventa più una dinamica di community e meno una dinamica diciamo di condivisione verso chiunque quindi è quella mi sembra una cosa interessante se posso poi lo chiederò a lui anticipalo proprio lavorando sui gruppi online un mediologo che si chiama Nick Kuldry ha coniato il concetto di online liveness se il concetto di liveness cioè quello di copresenza attore e spettatore era legato quasi da sempre al mondo del teatro questo mediologo all'inizio degli anni 2000 proprio lavorando sui gruppi online cioè sui gruppi facebook o meglio sui gruppi di chat quindi messanger eccetera eccetera ha coniato il concetto di online liveness e secondo me sarebbe interessante cercare di capire in che modo loro coniugano il modello della liveness teatrale con questa che è chiaramente a tutti gli effetti una liveness online tra l'altro rilancio anche a te e agli altri se conoscete attività che si stanno svolgendo teatrali diciamo o insomma comunque di spettacolo su whatsapp su messenger segnalatemi perché chiaramente quelle sono ancora più chiuse del gruppo perché il gruppo già mi posso iscrivere eccetera vado avanti c'è Elisabetta Carosio il 2 aprile regista anche lei protagonista di un gruppo sul Decameron che ogni settimana elegge un re e una regina ha tutto un percorso ha una sua drammaturgia proprio della della gestione che è anche il motivo per cui l'ho chiamata 3 aprile Erika Grillo di Clessidra Teatro da Taranto quindi anche un luogo dove parlare in altri termini di questa emergenza può assumere un significato niente male 4 aprile Tommaso Bianco Crono Teatro perché lo ha sentito e noi non stiamo facendo niente a livello web e social e quindi chiaramente un punto di vista anche di chi non fa nessuna attività a parlo digitale ci vuole è mancato perché fino adesso almeno ho chiamato tutte persone superattive in questi giorni Vincenzo grazie ancora ti saluto un abbraccio forte ci vediamo presto ciao ciao a presto dove va quindi si può vedere anche le foto non male va bene ora proprio come faccio a toglierla ok no posso mettere lo sfondo posso mettere lo sfondo posso mettere lo sfondo interessante va bene via vi saluto ciao